...sociale, l'inferimento lavorativo. Questo vuol dire che oltre a lavorare con i ragazzi, anche con uomini e donne che possono avere problemi psichiatrici, ma anche la legge tutela anche in una serie di altre categorie come ex detenuti, ex tossici, c'è un turismo, persone che rientrano nel nostro futuro. Loro diventano soci della nostra cooperativa, quindi siamo assunti esattamente come siamo assunti noi. Quindi siete soci lavoratori? Siamo soci lavoratori, quindi il contratto nazionale è lo stesso, quindi non si tratta di beneficenza, non si tratta di associazione, si tratta che è di integrazione di un lavoro, quindi loro non guadagnano perché noi facciamo beneficenza, hanno lo stipendio a fine mese, se noi vendiamo le magliette o facciamo le altre attività guadagniamo esattamente come qualsiasi altra tuta, questo è il valore di una cooperativa sociale. Quindi questo è sicuramente il valore aggiunto, ma io vedo un altro valore aggiunto che sta al tuo collo, con questa collana fantastica, anche ho visto il bracciale, l'anello, raccontaci un po' di queste creazioni perché so che questo ti appartiene molto. Esatto, allora queste sono mie creazioni, il logo è basura, che in spagnolo significa in indizia, perché vengono fatti principalmente con materiali di scarto, quindi polistirolo, giornale e anche un po' un modo per prendersi in giro, chiamarle smazzacorra. Poi è nata come attività così, passatempo, poi lavorando nel sociale chiaramente ogni cosa dopo tende a farla diventare sociale. Qui stiamo collaborando con la cooperativa e con una serie di altre cooperative per farlo diventare, anche questo è un progetto sociale. Siamo ai primi passi, quindi per adesso siamo ancora nella fase di capire se questi prodotti possono piacere e cercare di capire quali prodotti portare avanti, spingere e quindi creare anche qua una filiera etica che le possa produrre. Ti ringrazio moltissimo, grazie soprattutto del fatto che avete dato fiducia, fa la cosa giusta Sicilia, perché questo è davvero molto importante, per cui vi auguro una sicura riuscita di questo nuovo progetto e quindi in bocca al lupo. Ciao!